Mr. Rastelli, abbiamo già vinto il campionato, però perdere non è mai bello. Come commenti la partita di stasera? Non è bello perdere assolutamente la partita di stasera. Io analizzando così, proprio nell'immediato post la partita, mi sembra che abbiamo fatto una buona partita. Il primo tempo penso che abbiamo creato i presupposti per passare in vantaggio e all'unica palla che hanno avuto i nostri avversari purtroppo non si è stati bravi, poco attenti, poco cattivi nella nostra area. Abbiamo preso gol, dopo non volevamo perdere, abbiamo cercato con tutte le nostre forze il pareggio per poi magari cercare la vittoria, come abbiamo fatto tante volte in questo campionato. Stavolta non ci siamo riusciti, sotto di 2-0 i ragazzi non hanno niente da rimproverare. Secondo me abbiamo fatto il nostro gioco, abbiamo cercato di fare la partita, purtroppo il risultato non è quello che speravamo. Ti chiedo anche un commento sui giocatori che sono scesi in campo titolari, ai miazzali, quelli che hanno trovato poco spazio come li hai trovati oggi? Sono stati due che penso che abbiano fatto un'ottima partita e sapevo che sarebbero stati pronti perché so che sono giocatori bravi. Uno è molto giovane quindi ho provato a vedere in partita di che pasta è fatto ma ha confermato quello che sta facendo vedere durante la settimana. Suaimi è un portiere affidabilissimo che quest'anno ha trovato poco spazio ma non per colpa sua perché le scelte sono state altre ma lui è stato importantissimo e determinante come tutti per la vittoria del campionato. Adesso domenica con il Colorno? Il Colorno è una squadra che è nostra di partenza e voleva vincere il campionato, poi l'abbiamo vinto noi, domenica verranno qua, faremo la nostra partita, cercheremo di giocare meglio di loro per provare a vincere. Cosa che oggi non siamo riusciti a fare, ci proveremo domenica contro una squadra molto forte ma sarà una bella partita, una bella giornata qua a Fidenza dove magari festeggiamo il campionato in casa nostra con la nostra gente che sarà... non vediamo l'ora. Grazie. Grazie a voi, ciao.